Ogni giorno è una nuova opportunità per diventare la versione migliore di te stesso. Non importa quante sfide hai affrontato ieri, oggi hai la possibilità di fare un passo avanti, di crescere, di evolvere. Non aspettare che qualcuno venga a darti il permesso di essere grande. Tu hai il controllo, tu hai la forza e il momento di agire è adesso. Guarda il mondo negli occhi e dimostra a te stesso chi sei veramente. Nella vita di ogni giorno ci troviamo spesso di fronte a ostacoli e sfide che mettono alla prova la nostra determinazione, la nostra volontà e il nostro desiderio di progredire. Questi momenti possono sembrare insormontabili e a volte la tentazione di arrendersi è forte. Ma è proprio in questi istanti che si decide il nostro destino, non in modo eclatante o spettacolare, ma nel silenzio della nostra mente, dove la battaglia tra la rassegnazione e la determinazione si combatte costantemente. Il potere della motivazione personale non è qualcosa di esterno, non si trova in ciò che gli altri pensano di noi o nelle circostanze in cui ci troviamo. È una scintilla interiore, una forza che vive dentro di noi, che attende solo di essere risvegliata per illuminare il nostro cammino. Ogni singolo giorno ci viene concessa la possibilità di riscrivere la nostra storia, di correggere i nostri errori, di alzarci dalle cadute e di costruire qualcosa di nuovo, qualcosa di potente. E questa possibilità non è un dono da prendere alla leggera, ma una responsabilità verso noi stessi. Quando parliamo di automotivazione, stiamo parlando del carburante che alimenta il nostro viaggio verso l'autorealizzazione. Non è semplicemente il desiderio di raggiungere obiettivi esterni, ma è l'impegno costante a vivere secondo i nostri valori, a rispettare la nostra essenza e a fare in modo che ogni scelta, ogni azione, rifletta il meglio di ciò che siamo. La motivazione non è un fuoco che brucia sempre alto e ardente. A volte è una fiamma fioca, che va protetta dal vento delle difficoltà, altre volte è un incendio che ci spinge in avanti con una forza inarrestabile. Tuttavia, ciò che conta è mantenerla viva, giorno dopo giorno, passo dopo passo. Il mondo intorno a noi può essere caotico, pieno di distrazioni e di influenze negative che cercano di spegnere quella luce interiore. Ma tu, proprio tu, hai il potere di proteggere e nutrire quella luce. Non devi aspettare che qualcuno ti dica cosa puoi o non puoi fare. Non devi cercare approvazione o permessi. La forza di cui hai bisogno è già dentro di te, pronta a essere canalizzata verso i tuoi sogni, pronta a farti superare qualsiasi ostacolo. È una forza che cresce ogni volta che scegli di agire, nonostante la paura, nonostante il dubbio, nonostante le difficoltà. Ogni alba è un nuovo inizio, un'opportunità di guardare il mondo con occhi nuovi, di affrontare le sfide con rinnovata determinazione, di spingere oltre i tuoi limiti. Questo viaggio non riguarda solo il raggiungimento di traguardi esterni, ma anche la scoperta di chi sei veramente, del tuo potenziale nascosto, della tua capacità di creare, di ispirare e di trasformare la tua vita. Non si tratta solo di agire per ottenere qualcosa di materiale o per impressionare gli altri. È molto più profondo. Si tratta di vivere in piena armonia con il tuo scopo, di trovare quella connessione con la parte più autentica di te stesso e di portarla nel mondo con fiducia e coraggio. È un percorso che richiede disciplina, perseveranza e una volontà incrollabile di migliorarsi continuamente, ma è un percorso che vale ogni sforzo, perché ti porta non solo a realizzare i tuoi sogni, ma a diventare la persona che sei destinato a essere. Ogni mattina, quando ti alzi, ricorda che il tuo futuro è nelle tue mani, che hai il potere di modellarlo come vuoi, che non c'è limite a ciò che puoi realizzare se decidi di impegnarti totalmente. Non è mai troppo tardi per iniziare, non è mai troppo tardi per cambiare. Oggi è il giorno giusto per fare un passo verso i tuoi sogni. Non rimandare, non aspettare. Agisci ora, con determinazione, con passione, con la consapevolezza che ogni singola azione che compi può portarti più vicino al tuo successo. E non dimenticare, la strada può essere lunga e piena di ostacoli, ma la vera vittoria sta nel non smettere mai di camminare, nel continuare a credere in te stesso anche quando il cammino si fa difficile. Tu hai dentro di te tutto ciò che serve per avere successo. Ogni giorno è una nuova pagina bianca, una nuova possibilità di scrivere la tua storia. E la penna è nelle tue mani. Ogni grande trasformazione nella vita non avviene all'improvviso, ma è il risultato di piccoli passi, di gesti quotidiani che, ripetuti con costanza, costruiscono le fondamenta del successo. Le azioni che scegli di compiere ogni giorno sono la vera essenza del tuo cammino verso la realizzazione personale. Non sono gli eventi straordinari a cambiare la tua vita, ma la somma delle scelte che fai in ogni momento. Quando parliamo di azioni quotidiane, non ci riferiamo solo ai grandi gesti o alle decisioni più importanti. Sono le abitudini quotidiane, quelle piccole attività che spesso sembrano insignificanti, che determinano il corso della tua vita. Ogni azione che compia un impatto, sia positivo che negativo, sul tuo progresso. Ogni scelta, ogni movimento, ogni pensiero contribuisce a modellare il tuo destino. Immagina le tue giornate come dei mattoni con cui costruisci la casa della tua vita. Se scegli di posare ogni mattone con cura, con attenzione ai dettagli e con l'intenzione di creare qualcosa di solido e duraturo, alla fine vedrai ergersi una struttura forte e resistente. Ma se scegli di posare i mattoni in modo casuale, senza un piano preciso, senza dedizione, la casa che costruirai sarà fragile e instabile. Inizia la giornata con intenzione. Il modo in cui trascorri le prime ore del giorno può influenzare l'intera giornata. Svegliarsi con una mente focalizzata e con un piano preciso ti dà il controllo sulle tue azioni e ti permette di affrontare ogni sfida con maggiore serenità e determinazione. Quello che fai al mattino non è solo una routine, ma è un rituale che prepara la tua mente e il tuo corpo ad affrontare la giornata con energia e positività. Ogni mattina è una nuova opportunità per riconnetterti con i tuoi obiettivi, per ricordare a te stesso perché stai facendo ciò che fai e per ritrovare la motivazione che ti guiderà attraverso il giorno. Durante la giornata la costanza è fondamentale. Agire con continuità, anche nei momenti in cui la motivazione sembra calare, è ciò che distingue chi raggiunge il successo da chi rimane fermo. Non è necessario compiere grandi imprese ogni giorno. Ciò che conta è rimanere fedeli al proprio percorso, compiere quel piccolo passo avanti anche quando sembra difficile o insignificante. Ogni piccola azione si somma alla precedente, creando un effetto cumulativo che, nel tempo, porta a risultati straordinari. La disciplina personale gioca un ruolo cruciale in questo processo. Non si tratta solo di avere la forza di volontà per portare a termine i compiti, ma di sviluppare una mentalità che vede il valore in ogni azione, che riconosce l'importanza di ogni piccolo sforzo. La disciplina ti permette di agire anche quando non ne hai voglia, di mantenere il focus sui tuoi obiettivi anche quando la vita ti mette alla prova. È una qualità che si sviluppa giorno dopo giorno, con la pratica e la dedizione, e che diventa un alleato potente nel raggiungimento del successo. Un altro aspetto fondamentale delle azioni quotidiane è la loro capacità di creare abitudini positive. Le abitudini sono il pilota automatico della tua vita. Una volta instaurate, richiedono meno sforzo cosciente, permettendoti di riservare la tua energia mentale per altre sfide. Instaurare abitudini che ti avvicinano ai tuoi obiettivi ti permette di progredire in modo naturale. Ma affinché queste abitudini si radichino, è necessario coltivarle con pazienza e perseveranza, essere consapevoli di ogni azione e mantenerla costante nel tempo. Il ritmo della tua giornata è come una sinfonia. Ogni nota, ogni battito, ogni pausa è essenziale per creare un'armonia che ti spinga in avanti. Non c'è spazio per la dissonanza, per i passi falsi, per le distrazioni. La tua attenzione deve essere sempre rivolta al tuo obiettivo, anche quando le cose sembrano andare per il verso sbagliato. Ogni ostacolo, ogni deviazione, è solo un'opportunità per riaffermare il tuo impegno, per rafforzare la tua determinazione. E poi, alla fine della giornata, riflettere su ciò che hai fatto ti aiuta a riconoscere i tuoi progressi, a imparare dalle tue esperienze e a pianificare con maggiore saggezza il giorno successivo. Ogni sera, prenditi un momento per considerare ciò che hai raggiunto, per riconoscere i tuoi successi, per identificare le aree in cui puoi migliorare. Questo processo di riflessione ti permette di mantenere una visione chiara del tuo percorso e di rimanere allineato con i tuoi obiettivi. Il vero successo non è un traguardo che si raggiunge una volta per tutte, ma un processo continuo di crescita e miglioramento. Ogni giorno è un'opportunità per fare un passo avanti, per avvicinarti sempre di più alla persona che vuoi essere. Le azioni quotidiane sono il motore di questo viaggio, la forza che ti spinge verso l'alto, verso il meglio di te stesso. E in questo viaggio, ogni singolo passo conta. Se queste parole hanno risuonato con te, se senti che possono aiutarti a rimanere concentrato e motivato, iscriviti al canale. Whispers of Wisdom, attiva la campanellina per non perdere nessuno dei nostri video e lascia un like per supportarci. Insieme, possiamo continuare a crescere, a imparare e a trovare quella forza interiore che ci guiderà verso il nostro massimo potenziale.